Io trovo che il confine sia uno straordinario elemento che fa parte dell'essere. A volte è anche più drammatico, può essere divertente, può essere ironia, ogni manifestazione umana ha un suo rapporto con un confine, con un limite, con un cambiamento di pensiero, con un cambiamento di visione. E questo nelle arti visive io lo trovo abbastanza interessante perché ti permette di capire fino a dove puoi spingerti, fino a dove puoi portare avanti il tuo pensiero, come si dice questa parola usata e abusata, la tua ricerca. Per quello che mi riguarda ho cercato di indagare, insomma, continuo a tentare di spostarlo, di allargarlo, di assottigliarlo, di far sì che questo confine a volte sparisca. Gli artisti da un certo punto di vista sono in questo senso anche le persone più libere, non importa gli artisti, insomma, chi pratica, chi ha relazioni con la visione, chi fa il pittore, lo scultore, il performer, l'installatore. Quindi racchiudiamo tutto questo in una parola artistica che per me ha ancora un valore straordinario, cioè un artista che poi, o quello che riuscirà a restare, che sarà importante per gli altri, quello che non soltanto per se stessi. Credo che la stata più difficile, la stata più difficoltosa sia la semplicità. Mi sono imposto, diciamo, delle cose dove accetto l'idea che ci sia un punto privilegiato di visione, ad esempio. Per cui gran parte del mio lavoro, nonostante che sia scultura, io dico che sia scultura, si muove su un livello bidimensionale, cerca di eliminare tutto quello che è superfluo, quello che non serve, quello che non funziona. Ci ho pensato molto prima di decidere che fare l'artista, diciamo fare l'artista, insomma fare lo scultore, fosse una ragione di vita e la parte principale della mia esistenza. Non riesco a guardare niente se non attraverso questo filtro autoimposto, un filtro che riguarda la storia dell'uomo, che attraverso le sue opere. Ho sempre cercato di avere un'azione, ho sempre cercato di trovare una reazione. Osservavo quello che era successo, osservavo perché, come, eccetera. E così ho fatto anche con tutto quel lavoro che ho svolto negli anni della mia formazione, quando avevo lo studio a 20 anni, fino verso i 24 anni. La decisione che quella era la mia vita, sarebbe stata la mia strada, non avrei potuto fare altro, l'ho presa intorno ai 24 anni. Un bel pomeriggio di maggio, ho stato lì, ho guardato quello che facevo veramente con l'occhio distaccato, con qualcosa che non fosse mio, che fosse di qualcun altro. E attraverso le mie esperienze, le mie conoscenze, la mia capacità di vedere le cose, insomma, avevo studiato abbastanza fino a quel momento. Vedevo se c'era qualcosa che questa azione rimandava e se ne valeva la pena, perché altrimenti avrei fatto un'altra cosa. Io avevo fatto anche tante altre cose, fotografie, ero in teatro e tante altre cose così. E secondo me ce l'aveva. E da quel giorno siamo ancora qua, alla ricerca di trovare qualcosa che ci meravigli. Esiste una specie di archeologia personale, per cui faccio delle azioni, prendo delle cose che mi interessano. Cerco, diciamo che se dovessi cercare di trovare una formula che possa un po' sintetizzare quello che è il mio operato, io cerco di unificare degli opposti. Usavo il gesso e poi ci andavo sopra con qualcosa di trasparente, completamente diverso che l'acquerello, per cui che crea spessore. Mentre creavo delle forme in gesso appunto plastiche, delle forme reali degli oggetti, che poi modificavo con il suo posto, con l'abellatura, con l'acquerello, con la stratificazione che dà il tempo. Per cui queste due cose insieme creavano degli elementi che alcune sono diventate le opere. Questa pratica è durata per tanti anni, poi è finita nell'85. Nell'85 non volevo essere legata a un medium, ho usato altri mezzi per esprimermi. Ho usato il legno, ma lo brucio, cioè uso il suo posto, quello che poi anche fisicamente lo distrugge. Uso il piombo che è un metallo, ma non è un metallo morbido, per cui ha una relazione con la luce. Cioè tutta questa, diciamo, se dovessi sintetizzare, probabilmente cercare di eliminare i confini. L'argomento della creazione, diciamo. Ad esempio esiste uno dei momenti, ma sono dei momenti personali, dove tu accumuli. E sei, io passo gran parte del tempo dove ricevevo, proprio non ero capace neanche di fare una telefonata. E altri tempi con un dinamismo spaventoso, dove sembra che non hai il tempo neanche, non c'è neanche una frazione di secondo da perdere. Per cui, e poi ti accorgi che ci sono alcune cose che se vuoi continuano a lavorare nella tua testa, e a un certo punto riesci a vederle, perché molto spesso le cose che ci circondano non riusciamo neanche a vederle, non riusciamo a apprezzarle. Spesso proiettiamo qualcosa, proiettiamo un nostro pensiero su quell'idea. È difficile riuscire a comprendere. La conoscenza è molto più difficile, il conoscere è molto più difficile del riconoscere. Sono un artista curioso, sono veramente ancora curioso, sono sempre più curioso, mi piace vedere tutto, mi piace vedere i giorni, mi piace frequentarli, mi piace sapere perché trovo che scoprire delle cose è una cosa straordinaria. E questo mi rende anche, con le dovute fatiche, le dovute sofferenze, mi rende la vita fantastica, perché conoscere, sapere, poter dare anche. Io credo di aver avuto degli amici che mi hanno dato molto, io per quello che posso cerco di dare, perché è qualcosa che credo di cui il mondo abbia bisogno. Non perché io sia un buon samaritano, ma sicuramente perché questo è quello che mi piace fare. Credo che a un certo punto, insomma, gli artisti non è che più dialogano tanto, però insomma io, però sono curioso, cioè nel senso che a me piace, a me diverte sempre parlare con gli artisti, mi piace discutere, mi piace avere dei rapporti. Lo faccio più con i giovani che con quelli della mia generazione ultimamente. Devo dire anche in un senso, per qualche aspetto, anche egoistico, in un senso che mi diverte vedere un modo diverso di percepire il mondo, di percepire la realtà attraverso dei mezzi di comunicazione completamente diversi. Insomma, cerco... è interessante. Io ho avuto dei rapporti con degli artisti che mi raccontavano, era molto interessante perché io gli raccontavo la mia contemporaneità e loro mi raccontavano la loro contemporaneità. Dato che c'erano 40 anni di differenza, era veramente interessante perché poi, tutto sommato, il problema è quasi sempre lo stesso. Cioè, in fondo tutti vogliono, cercano di aprire uno spiraglio e di allargare le proprie coscienze, di allargare la propria conoscenza sulla visione. E questo trovo che sia importante.